Allora, signori, siamo all'occo numero 55, sempre fuori simeti, si parte da 15.000 euro, bisogna offrirne 16, 16 online, 17 torna al banco, bisogna offrirne 18, 18.000, 19 torna al banco, bisogna offrirne 20, 20.000, gialla, grazie, 21.000 è il prossimo rilancio, siamo a 20.000 euro con gialla, 20.000, grazie, siamo con me, siamo online, bisogna fare 21, giusto? Siamo a 21.000 euro per la prima, 22, grazie, siamo sempre online, siamo a 22.000 euro online, bisogna offrire 23, 22 per la prima, 22 per 23, 23, bisogna fare 24, siamo a 23.000 euro online, 24.000 euro, è il prossimo rilancio, 23.000 per la prima, 23.000 per la seconda e 23.000 euro, 24, siamo a 24.000 euro online, il prossimo rilancio è di 25.000 euro, 24.000 per la prima, 25, bisogna fare 26, siamo sempre online, bisogna fare 26, siamo a 25.000 euro per la prima, 25.000 euro per la seconda, 25.000 euro per la seconda, 26, siamo 26 online, 26, grazie, per la prima, 26.000 euro per la seconda, 26.000 euro per la seconda, 26.000 euro per la seconda.